Tutto il giorno, come se non avessimo nessuno intorno Con gli occhi tipo diamo e tu mi ami E il resto si fotte, parleranno sempre Io ho la testa calda, poi la testa calda E' più bella, Vigo Va su left sharp Vabbè, adesso c'è da morire perché bisogna fare il ritornello Ah, finiamo le strofe prima Tu hai altre strofe su questa pezza? No, lo special Facciamolo dopo, anche lo special insieme dopo ritorneranno Mi ho bruciate teste su teste E riguardo alle tifre Mi ho collezionate mille come praia di sneakers Abituati a dire non ho nulla tenente La sto sempre in giro con chi è nulla tenente Tutta la mia gente ha più di un precedente Voglio te ma so che hai più di un pretendente Tecnicamente stiamo allineando la voce con la melodia del pezzo Qui c'è Marco che è l'assistente di studio E Saverio che è... Marco ingegnere di studio Ingegnere di studio E Saverio che è il boss Ma è ingegnere! E niente, la cosa è proprio te, è super tecnica Stiamo facendo un lavoro su con Melodyne Che è questo plugin che sistema le voci perfettamente Comunque questo qua raga è una parte di ritornello Che prepara quello che viene dopo Che è la vera bomba Che poi basta intonare un attimo e l'è fatto in un secondo Stiamo arrangiando bene la base Perché il ritornello diciamo che è abbastanza melodico E quindi siccome non abbiamo idea di come fare la melodia del ritornello Ci stiamo arrangiando per capire bene come fare Le strofe sono già registrate Una volta che il maestro Don John Farà... metterà bene a passo la melodia Faremo pronti per fare anche il ritornello Il bridge E a chiudere il lavoro Cioè solo questa parte che ho fatto adesso Ok Tieni la lì da parte che provo a farne un'altra Ok Cioè sotto non la vuoi sentire? Fatte la cazzo Tom Vai, due misure più di quella Amo e mi ami Ti amo e mi ami Che tu mi ami e ti amo Mi ami e ti amo Ti ami e ti amo Era un disastro Posso fare? Mi ami e ti amo A Milano ti amo Il nostro obiettivo è di incidere qua a Los Angeles Di tornare in Italia con una... Dieci brani Sarà impossibile Torneremo però con sette otti Speriamo Comunque insomma sono... Sono soddisfatti Quindi il top sarebbe tornare in Italia Da avere appunto Come dire Il corpo del disco Sì Grazie a tutti Grazie a tutti